Nino Banfi, pochi lo sanno, ma lei ha avuto una brevissima carriera ciclistica. Insomma è stata una cosa molto rapida. La prima volta che ho tentato di fare una corsa in bicicletta, avevo 15-16 anni, era il mese d'agosto, eravamo tutti sudati. La gente per aiutarci a respirare bene buttavano qualche bottiglia d'acqua in faccia così brutta. A me hanno buttato un secchio, me l'hanno fatto cascare. Io mi sono ingazzato e ho detto non voglio più correre in bicicletta, andate a fare acqua al paese. È stata l'unica corsa della mia vita.